Ciao, sono Marco e nel video di oggi voglio mostrarti un plugin davvero interessante che si chiama FakePay for WooCommerce. Questo plugin che andremo a vedere tra poco, che voglio segnalarti, che voglio farti vedere come funziona, è un plugin che fondamentalmente permette ovviamente agli sviluppatori. Quindi è un plugin diciamo un po' più di nicchia, di andare a rimuovere, ad eliminare tutta quella parte noiosissima di quando dobbiamo in WooCommerce andare a testare un ordine, andare a testare quindi magari tutta la procedura, tutto il percorso diciamo che riguarda un ordine, quindi anche le mail che arrivano e tutto quanto e ogni volta dobbiamo quindi anche andare a processare il pagamento per completare l'ordine. Andremo quindi a vedere come questo plugin ci può venire in aiuto e ci può far risparmiare un sacco di tempo. Non perdiamo quindi adesso altro tempo e andiamo a vedere direttamente questo plugin. Per capire a fondo come funziona questo plugin partiamo quindi dalla nostra dashboard di WordPress supponiamo quindi di dover sviluppare un sito per noi o per un nostro nuovo cliente e appunto dobbiamo andare a di fatto a testare quello che è la creazione di un ordine. Quindi siamo nello shop, abbiamo dei prodotti già nel carrello, andiamo avanti con l'ordine, qui abbiamo da inserire ovviamente quelli che sono i dettagli di fatturazione e qua arriviamo al fatidico pagamento. Allora che cosa possiamo fare per testare quindi un ordine WooCommerce? Quello che possiamo fare è andare ovviamente nelle impostazioni di WooCommerce nei pagamenti e prendiamo l'esempio adesso di questo pagamento che ha attivato Stripe. Nel caso di Stripe per esempio possiamo andare a gestire quello che è il pagamento in modalità test. Quindi anche qui ovviamente a seconda del gateway di pagamento, a seconda delle varie tipologie appunto di quelli che sono i sistemi poi abbiamo la possibilità di attivare dei test. Quindi l'esempio di Stripe per esempio ti fa attivare l'abilità di test ma non è soltanto questo click, bisogna mettere proprio, andare a mettere delle chiavi sull'account di Stripe, bisogna andare a prendere quelli che sono appunto per esempio dei numeri di carta da poter effettuare ai test. Comunque diciamo una condizione un pochettino laboriosa. Stesso identico discorso, ancora più lungo anzi è con Paypal, si può attivare il sandbox di Paypal che quindi ci fa effettuare dei pagamenti appunto non veritieri ma finti pagamenti ma la cosa ti posso garantire che è assai laboriosa. Ecco quindi utilizzare sandbox, comunque Paypal diciamo che non è dei più semplici nell'ambito test. Altri strumenti che possiamo usare per esempio creare dei coupon che ci vadano a scontare quasi la totalità del nostro carrello ma comunque dovremo fare una transazione anche se di un centesimo, anche se di un euro dovremo fare delle transazioni. Abbiamo quindi invece la possibilità di utilizzare questo plugin che ti consiglio appunto che è WooCommerce FakePay che ti consente di solo per l'utente admin e ora lo andiamo a vedere un attimino nel dettaglio ti consente solo per l'utente admin di creare questo finto pagamento questo gateway di pagamento e di processare l'ordine quindi ti consente appunto di processare l'ordine senza dover inserirne su una carta senza dover effettuare dei pagamenti. Proviamo un attimino quindi a installarlo e a vedere rapidamente come può andare a funzionare. Ok, lo andiamo ad attivare. Una volta attivato basta recarci sulle impostazioni di WooCommerce andiamo su pagamenti e avremo questo FakePay che ci crea dei pagamenti fake solo per gli utenti admin. Qua nelle configurazioni non c'è un granché da configurare possiamo cambiare il testo e la descrizione ma direi che non fa il caso nostro. A questo punto ce ne torniamo al carrello, al checkout andiamo a rifresciare, vediamo se andando ad aggiornare ecco abbiamo questo FakePay con questa opzione come vedi non abbiamo più la richiesta di carta non abbiamo più alcuna tipologia di dato da dover inserire per procedere quindi al pagamento e se andiamo ad inserire dei dati quindi andiamo ad inserire dei dati ovviamente casuali adesso tanto per effettuare un pagamento per provare quindi abbiamo anche un numero di telefono e andiamo ad effettuare l'ordine con questo FakePay ecco che l'ordine è stato ricevuto correttamente stiamo quindi ricevendo le mail e tutto quanto e se andiamo negli ordini vediamo che questo ordine è stato effettuato correttamente andiamo a vedere per ulteriore conferma in navigazione anonima quindi come se non fossimo un utente diciamo amministratore andiamo nello Shop aggiungiamo un prodotto al carrello andiamo al Checkout così da poter procedere al Checkout dobbiamo essere connessi per completare l'ordine perché avevamo attivato questa impostazione su WooCommerce quindi andiamo un attimino sulle impostazioni a modificare ulteriormente tanto facciamo un po' di preparazione su quello che è WooCommerce quindi dobbiamo dare ok di effettuare in ordine anche senza un account quindi andiamo un attimino a salvare andiamo a vedere se questa cosa ci consente di ecco qua abbiamo qua dettagli di fatturazione e come vedete qui abbiamo carta di credito Stripe ora qua siamo in modalità test comunque la modalità test è per tutti ma non abbiamo Fake Payment che invece è soltanto per l'utente amministratore quindi abbiamo visto come possiamo appunto con questo semplice plugin che poi dobbiamo utilizzare solamente nel momento dello sviluppo andare ad abilitare un metodo di pagamento per processare quindi l'ordine anche se vogliamo per esempio testare le email ecco un modo pratico per andare a testarle bene per quanto riguarda Fake Pay per WooCommerce per oggi è tutto se hai qualche dubbio o domanda non esitare a scrivermelo qua sotto nei commenti se questo video ti è piaciuto iscriviti al canale così darei un contributo alla crescita di questo canale e seguimi nei prossimi video ciao 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 ciao